Io posso? No, non si può andare lì. A me piace di più stare in piedi a parlare. Intanto grazie ai compagni e alle compagne degli aderenti individuali del Partito della Sinistra Europea e degli aderenti individuali in Italia perché siamo il paese che ne ha di più per aver tenuto la costanza di volersi incontrare, di volersi vedere finalmente in presenza in parte. Io dirò alcune cose per sottolineare alcuni elementi che non sono stati troppo toccati. La prima questione della vicenda della guerra, io tendo a vedere due elementi, non dico che sono due guerre, ma insomma due elementi molto forti. Una è la guerra messa in piedi da Putin e che abbiamo condannato e che aveva a mio parere una dinamica regionale, il problema della sicurezza e tutto quanto. Noi condanniamo totalmente la guerra perché pensiamo, come recita la Costituzione italiana, che non possa essere la guerra a risolvere i contenziosi internazionali, ma è evidente che si poteva discutere e aprire una trattativa su quei problemi posti ed è la linea che ha proposto la sinistra europea in buona compagnia col Papa e con altri. La Nato, l'Occidente, poteva fare tre cose in risposta alla guerra di Putin. Una era la trattativa e non ha voluto. L'altra era la terza guerra mondiale direttamente e per adesso non la stanno facendo. La terza che stanno facendo è quella di trasformare l'Ucraina nell'Afghanistan europeo. Allora, secondo me, bisogna iniziare a dire con chiarezza che questa qui non è più la stessa guerra di prima. Noi oggi siamo davanti a due guerre. Una dichiarata da Putin in Ucraina e l'altra dichiarata nei fatti dalla Nato, dagli Stati Uniti e dall'Unione Europea che gli va dietro che è una guerra di logoramento della Russia che vede l'Ucraina, drammaticamente il popolo ucraino e l'Ucraina come luogo ma che è una guerra combattuta per procura in cui il punto non è finire la guerra perché oramai non c'è da parte di Biden, a me pare che è pulita la cosa, non c'è nessun interesse a terminare la guerra c'è un interesse a tenere la guerra il più a lungo possibile nell'idea che questo logori la Russia, la indebolisca possibilmente faccia saltare per aria Putin e avanti. Ma diciamo così che c'è un utilizzo della guerra di Putin da parte di Biden per riuscire a fare un'operazione che altrimenti non avrebbe potuto fare. Vorrei che fosse chiaro questo non toglie nessuna delle responsabilità di Putin perché è lui che ha cominciato questa guerra criminale come lui. Però se questo è vero secondo me noi dobbiamo ragionare bene su che cosa succede all'Europa perché io penso che questo abbia sull'Europa degli effetti devastanti. La non capacità delle classi dirigenti europee di nemmeno di difendere i propri interessi geopolitici è un fatto drammatico. Non lo dico da un punto di vista socialista, lo dico da un punto di vista così, della possibilità che l'Europa acquisisca un elemento politico rilevante dentro la crisi della globalizzazione. in qualche modo l'asse Merkel-Macron aveva all'uso all'inizio della pandemia a questo tema e qualche elemento era cresciuto in questi due anni oggettivamente mi sembra. E certo oggi c'è un rinculo pesantissimo e non so, leggo oggi che anche qui Francia e Germania oggi hanno detto qualche parola importante, penso io, però recuperare il disastro che si è combinato in questo mese e mezzo non sarà semplice. Allora qui secondo me c'è un punto di riflessione pesante perché se è così è evidente che anche i nostri margini di movimento sono più bassi di prima. Nel senso che il liberismo ha lavorato a restringere i margini di contrattazione. Il movimento operaio è cresciuto nel novecento contrattando, sia sul piano politico sia sul piano sindacale. Il liberismo ti ha ridotto i margini. Questa guerra li restringe ulteriormente. E quindi l'Europa è sempre meno Europa e somiglia sempre di più ad altri modelli di capitalismo che anche il welfare non l'ha nemmeno visto. In questo senso secondo me la guerra per noi non è solo il dramma della guerra, ma è la distruzione dell'Europa come possibilità di un terreno di conflitto di classe avanti che avesse delle caratteristiche tra virgolette positive, diciamo. Questo a me sembra un punto. L'altro nodo è che credo non lo si fa abbastanza secondo me, noi dovremmo tenere più in conto degli effetti economici e sociali della guerra. Non è possibile che lo fa solo Confindustria. A me fa impressione che in questi giorni, in Italia, io non so come in giro per l'Europa, ma in Italia i più lucidi sono gli ex generali, poi ci sono gli industriali e poi arrivano gli altri. I commentatori politici e i politici sono i più terribili, ma i generali sono i più lucidi, gli ex, quelli in pensione, perché quelli in servizio, non dico. Ormai gli ex generali sono lucidi perché vedono la distruzione dell'Europa in modo molto reale. Ma anche gli industriali non sono mica con l'elmetto in testa, sono articolati. Secondo me noi da sinistra dovremmo ragionare su che cosa succede nel giro dei prossimi mesi, su che cosa succede dal punto di vista della difficoltà alimentare se la guerra va avanti, visto che è probabile che vada avanti qualche altra settimana e qualche altro mese, che cosa vuol dire se non seminano? Se il granaio dell'Unione Sovietica, 7% delle terre coltivabili del mondo, l'Ucraina, no no, l'Ucraina era il granaio dell'Unione Sovietica e ha il 7% delle terre coltivabili del mondo. Se l'Ucraina non semina o semina solo metà, manca un pezzetto non piccolo. E se la Russia incasinata, cioè, allora io credo che noi ci dovremmo ragionare perché ho l'impressione che nelle prossimi mesi, sicuramente in Italia, ma io ho l'impressione in Germania, cioè tutti coloro che sul piano economico hanno il boomerang delle sanzioni, perché di questo si tratta, noi avremo una crisi sociale rilevante. E a livello globale avremo una crisi per i paesi più poveri drammatica. Allora, io ho l'impressione che noi come sinistra abbiamo il problema di vedere se riusciamo a connettere il tema del no alla guerra, tra virgolette, per ragioni etico-umanitari, sacrosante, cioè la vita delle persone, con quello economico-sociale. A me piace ricordare che uno, diciamo, che ha fatto la storia, diciamo, la rivoluzione russa l'ha fatta dicendo pace e terra ai contadini. Non è un caso. Cioè il movimento, in questo caso il movimento comunista, diciamo, ma la sinistra, il tema della rivoluzione, non nasce su delle cose strane, nasce nell'interrompere la guerra, nasce nel porre il problema della pace in termini radicali legato a quella sociale. Io penso che noi oggi non è che abbiamo il tema della rivoluzione, ma il tema di come si connette il no alla guerra per motivi etico-morali, mettiamola così, col no alla guerra per ragioni materiali, questo qui è il tema che abbiamo. Perché secondo me nelle prossime mesi noi avremo una condizione in cui quella cosa che c'è in Italia molto più che negli altri paesi europei. L'ultimo sondaggio è che la maggioranza del popolo italiano non è d'accordo a inviare le armi in Ucraina, non è d'accordo ad aumentare le spese militari. Cioè c'è un divaro. Quel dissenso non è che necessariamente va a sinistra nella crisi sociale. Può andare abbastanza da tutte le parti, dipende molto da noi dove va. Allora, questo a me sembra i due punti che volevo sottolineare nelle analisi, cioè che l'Europa ne esce stravolta dalle modalità della risposta alla guerra di Putin e secondo che noi dobbiamo mettere la questione sociale molto più al centro perché ci sarà un intreccio tra le due di cui possiamo oggi immaginare ma anche se non si vede ancora. Seconda considerazione sulla sinistra, ci sono stati vari interventi, come è normale che sia come si costruisce la sinistra. Io penso questo, che in generale a me piacciono le parole usate dal compagno della GKN, cioè processo e risveglio. Processo perché penso che la costruzione di una sinistra sia sul versante elettorale sia su un versante più politico non possa essere altro che un processo. Non c'è nessuno che è in grado di convocare gli altri e di decidere come si fa. Può solo essere un processo. E dall'altra il risveglio perché non può essere solo un processo politico, deve essere per forza di cose un processo politico, culturale, sociale, di costruzione. E quindi deve vedere un protagonismo. Non può essere un processo solo fatto dall'alto per evocazione. Deve essere per forza di cose un processo più... Anche perché chi fa l'evocazione col caso francese, secondo me, non bisogna dimenticare che mentre l'Italia è dentro un processo di passivizzazione sociale pazzesco, per cui la gente è incazzata e in dissenso, ma non si muore, in una percezione drammatica di impotenza, di senso di impotenza, questa non è la situazione francese. Perché la Francia, gagliardamente, negli ultimi anni, dai gilets jaunes, cioè nelle forme diversificate, però ha espresso un protagonismo sociale che, ad esempio, sulle pensioni ha fatto sì che Macron ce l'ha nel programma elettorale di cambiare le pensioni, perché non ce l'ha fatta prima. In questo senso in Francia c'è un protagonismo sociale anche sulle privatizzazioni robusto. Credo che in Italia a noi questo pezzo è molto deficitario e per questo bisogna porsi un problema di un processo che si coniughi con il risveglio. La mia idea è che il nostro obiettivo dovrebbe essere ambizioso, e cioè se metà del Paese non è d'accordo con l'indirizzo del governo e in Parlamento questa metà del Paese ha dieci, quindici deputati, i deputati che lo rappresentano. C'è una spaccatura tra l'elite e il Paese, palese, su un tema rilevante, la guerra. Questa spaccatura è presumibilmente destinata ad aumentare dentro la crisi sociale che dalla guerra emerge. Io penso che il nostro problema è di come riusciamo a dare una rappresentanza a questa metà del Paese che non si ritrova, che non è automaticamente di sinistra. Io su questo sono completamente d'accordo, cioè non è che ti fai l'analisi del sangue, ma questo è il nodo. Allora io credo che noi dobbiamo porci l'obiettivo di come riusciamo, avendo un po' di tempo, a fare un percorso che si ponga questo obiettivo. Poi non riusciremo a mettere assieme metà del Paese, ma se noi non possiamo partire dal pensare di mettere assieme il 4,5%, perché sennò quello è sicuro che non va da nessuna parte. Allora da questo punto di vista io la penso così, che non so tanto se si può tenere distinto un processo elettorale da un processo politico, perché è evidente che un processo elettorale o ha un appeal ed è chiaro che va al di là delle elezioni, oppure secondo me in Italia non convince più nessuno, perché le abbiamo provate tutte. E quindi se uno non fa una cosa, che è sicuro che c'è anche due settimane dopo il voto, e che abbia un minimo di cosa, altrimenti la cosa che viene vista è vabbè avete messo in piedi una lista per mettere il sedere di 20 persone su una sedia, ma così viene letteralmente vista. Allora io ho l'impressione che non si può così tanto distinguere, ma che il problema è come si riesce a fare un processo che sia anche di risveglio, che abbia questa caratteristica di non essere finalizzato alle elezioni, ma le elezioni sono un passaggio, e di avere un profilo riconoscibile, che abbia un appeal, che abbia una capacità. In questo io credo che sia giusto l'elemento del dire non può essere fatto solo dall'alto, individuando il leader, non è sufficiente. Adesso a me piacerebbe ci fosse, ma non c'è nessuno che è in grado di fare questo attorno alla sua sola figura. Secondo me non si può nemmeno dire il contrario, cioè partiamo dal basso e basta, perché è evidente, c'è un problema di immaginare, di costruzione di una narrazione, c'è un problema di avere dei leader, della tessitura sociale. In Italia, ad esempio, siamo qua nella sede dell'Arci, c'è molta densità di organizzazioni sociali, magari micro, non ci sono quelle macro, ma poi c'è anche... Lì bisogna andarci a ragionare, perché quelle sono il tessuto democratico del Paese e sono tutti sulla posizione politica sulla guerra corretta. Allora, il problema che vedo io è di come riusciamo, sapendo che nessuno è in grado di avere la bacchetta magica per decidere la cosa, e come riusciamo a trovare il modo per aprire un processo in cui questi diversi pezzi si confrontano, lavorano a costruire un programma, lavorano a costruire delle regole condivise, perché è evidente che uno dei problemi che abbiamo è anche di dotarsi di regole condivise in cui si sappia che forma ha la cosa che costruisci, programma, regole, leadership. Ma trovare un percorso in cui proviamo a mettere assieme queste cose. Secondo me questo dovrebbe essere il nodo e finisco dicendo a me piacerebbe se gli aderenti individuali della sinistra europea di cui qualcuno pensa che bisognerebbe avere solo il partito della sinistra europea superando i partiti nazionali. Altri pensano di no. E in ogni caso siamo in questa situazione diciamo ibrida, mettiamola così, e penso che la cosa che ha detto Heinz di cui abbiamo discusso all'ultima riunione del segretariato, di lavorare, ad aprire rispetto ai gruppi di lavoro sia un passaggio perché si riescono a fare le cose che si possono. Però a me sembrerebbe utile se gli aderenti individuali della sinistra europea che si ponessero l'obiettivo di come riusciamo a far discutere tutti di queste cose. Cioè se fossimo, essendo che il nostro obiettivo chi ce l'ha più alto è di fare una sola grande forza di sinistra europea. Secondo me la missione di questi è di dire possiamo in Italia non dire siamo noi la soluzione, ma lavoriamo a fornire dei luoghi, dei momenti di discussione in cui tutte le parti che bisogna provare a mettere assieme trovino una possibilità di un incontro su un terreno che esplicitamente non vuole mettere il cappello perché non c'ha nessun cappello da mettere. Non so se riesco a rendere l'idea. Perché tu non fornisci una soluzione, fornisci dei terreni di confronto e poni magari dei problemi, appunto, il programma, le regole. Secondo me questo forse potrebbe essere una cosa che pur nella piccolissima forza che siamo, diciamo che però ci si potrebbe porre l'obiettivo di svolgere una funzione attenzione, non unici, perché non è nemmeno che ma che uno svolge una funzione in quella direzione e poi ci saranno anche altri che faranno dei pezzi ma non vedo altra strada che un processo che abbia caratteristiche plurali e che in una pluralità di di luoghi, di percorsi, lavori per la convergenza. Perché tutti sappiamo che dobbiamo arrivare al meglio e che l'unica validazione che ci può essere è che il processo è unitario nella misura in cui, diciamo così, non lascia nessuno fuori. E come, finisco su questo, è come l'FLM quando si fece l'unità sindacale e la si smise di pensare che io faccio la proposta unitaria e se gli altri non ci stanno è perché loro sono settari. E no, devi cominciare a pensare come il percorso è effettivamente unitario nella misura in cui ci stanno tutti. E quindi io penso che noi, dico noi perché, come dire, mi ci metto, insomma, ma come aderenti individuali, si potrebbe cercare di svolgere un ruolo, un pezzettino, qualche passo in quella direzione e quindi di darsi anche un coordinamento alla fine di questa assemblea, adesso non so le forme, ma insomma, sia tra i compagni e le compagnie che sono dentro l'associazione che ha organizzato fisicamente l'evento, sia coloro che sono iscritti alla Sinistra Europea, non fanno parte dell'associazione, ma che ci si dia un minimo di coordinamento in modo che potete svolgere una funzione, insomma, potete lavorare. Grazie tantissime e buona volta. Grazie.